Oltre ai PSR il titolo di un importantissimo convegno che si terrà al Borgovecchio di Marzanello il prossimo 2 luglio e che nasce dalla necessità di introdurre e sviluppare a livello locale specifiche innovazioni organizzative nel settore agroalimentare, opportunità e occasioni per le aziende queste che non vanno sottovalutate e indispensabili alla crescita di un'azienda che guarda lontano. Noi alla vigilia dei lavori abbiamo sentito Arturo Palompa commercialista ed esperto in questo settore che ci ha spiegato la grande occasione di questo ennesimo appuntamento. Allora oltre il PSR ci vuole spiegare di cosa si tratta? Abbiamo deciso di intervenire a sostegno delle aziende agricole e dell'agroalimentare attraverso un progetto lanciando l'idea di un convegno per informare le aziende che oltre al PSR esistono delle forme alternative di finanziamento. L'idea è un'idea che nasce da una collaborazione tra Appi Studio STP, Vairo Consulting Group con il patrocinio di Agrocepi e mira ad informare le aziende agricole del territorio della presenza di nuove risorse, risorse che vengono erogate direttamente dal Ministero delle politiche agricole e forestali attraverso una domanda. Come si può partecipare a questa misura? Attraverso la cooperazione, quindi cercando di stare insieme. Questo convegno mirerà ad illustrare i nuovi strumenti di cooperazione delle imprese e come presentare la domanda. Cogliamo questa opportunità perché è importante cogliere il fondo perduto che c'è dietro questo tipo di iniziative. Si tratta di un progetto per cui il 40% del valore imponibile degli investimenti è dato a fondo perduto, il 30% attraverso un contributo in conto capitale e il 30% con mezzi propri. Quindi, care imprese agricole, cercate di essere presenti a questo convegno per avere maggiori informazioni su questo strumento. Grazie. Ecco, quando si terrà esattamente il convegno e dove? Il convegno si terrà il 2 luglio presso il borgo di Marzanello, presso il comune di Vairano Patenora. Ecco, vogliamo dire chi l'ha organizzata, cioè l'idea da chi è partita? L'idea parte da due aziende che si occupano di consulenza per le imprese agricole, la Vairo Consulting Group e l'Api Studio STP. Si tratta di realtà che hanno a a che fare con aziende agricole già da diversi anni e che cercano di incentivare le aziende agricole verso la collaborazione e verso la cooperazione, attraverso strumenti che possono essere i contratti di rete, possono essere le OP oppure le associazioni temporanee di scopo. Chi sarà presente? Noi abbiamo invitato tutte le aziende che appartengono al comparto agroalimentare, nonché le sigle sindacali, quindi tutti i sindacati e poi tutti quelli che possono essere interessati a cogliere delle nuove opportunità. Quindi il nostro invito è anche rivolto a dei giovani che vogliono fare dei subentri in agricoltura e vogliono decidere di cogliere queste nuove opportunità. Quindi chiudendo possiamo dire che è una grande opportunità? Certo, è una grande opportunità, basta semplicemente sapere come mettere le carte insieme per partecipare a questa opportunità. Quindi cerchiamo di non sprecarla, cerchiamo di non rimandare indietro i fondi alla comunità europea.